vai Bato sono Tari ah Tari io dico bene come sei Tari sei Tari oh sai che eccoci un po' qualcosa di te cosa fai alla vita son si Tari io non ti sento mi troverai un pochino sotto sento sempre quel microfono lì eh benissimo più avanti, più avanti che così ti sento bene Tari perché se non sento non so che non riesco ad arrivare con te dicevo e cosa fai alla vita? senti e chi ci fai qua? aspetta Tari perché se non ti sento è un po' troppo non lo sentiamo, non è giusto vai 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 Tari come stai? vado a parlarmi Tari dai ciao oh non ti sento bravo Daniel perfetto Daniel mi facciamo il ciak scusa Tari se ci sei ti devo sentire e la gente ti deve mutare hai un'autorizzazione qui ti dovrai su Facebook Tari bene sentate si vado vado bene eh continuo a vici che c'è un orecchio allora non ti non ti provate ok ciao Tari hai detto bene Tari che ci racconti di bello? ah è un pezzo stai direttendo guarda bene direi spesso che ti spiega si si perché? perché che è attivando io mi piace la comunità io mi piace la comunità io mi piace stare in fotografia bello si bello si